L'incontro con mia madre è una delle pagine più belle della mia memoria. Una scena da incorniciare nel libro dei ricordi, un'emozione unica, irripetibile. Una valanga di sentimenti che ti sprofonda nell'anima e ti appaga, ti strugge, ti avvicina sempre di più all'oblio in quel pianto liberatorio che immanentemente ti fa capire il grande, immenso e incomparabile dono che è l'amore di una mamma. La vidi arrivare di corsa, trafelata e con le mani protese ad un abbraccio da tempo atteso e lungamente sperato. L'andatura affannosa e sconnessa liberava al vento i lunghi capelli raccolti a giro, sciogliendoli dalla stretta della forcina, in quella sorta di incredula abbagliante felicità che solo una madre può provare nei confronti di un figlio che temeva perduto. Quello fu un giorno di festa, una processione continua di parenti ed amici, un susseguirsi di strette di mano, di pacche sulle spalle, di sorrisi e lacrime di gioia, un'altalena esaltante di sensazioni senza fine. Mio padre ostentava un comportamento serioso al limite del convenevole, ma ogni tanto una lacrima prontamente repressa tradiva il suo reale stato d'animo e per mascherare la grande emozione da cui era pervaso masticava nervosamente un mozzicone di sigaretta, spento ormai da tempo. Ero felice ma non appagato, sazio ma ancora digiuno, giunto ma ancora in viaggio. Mi mancava qualcosa, meglio qualcuno, c'era il presente ma mancava il futuro. Tutto a un tratto repentinamente uscì di casa e mi mise a correre, a correre a più non posso. Il cuore batteva forte, il respiro diventava affannoso, il sudore grondava il viso proteso, rigando lo sguardo che intensamente scurtava l'orizzonte. Finalmente la vidi, la vidi da lontano, già donna ormai, correre anch'essa ansimante verso di me in quel luogo tenero, appassionante, abbraccio che ancora oggi non trova fine. La guerra nella sua essenza non è stata altro che un immenso, terrificante organo voluto dall'uomo che all'apice del vorticoso suo corso assassino distrugge tutto e tutti, senza nessuna distinzione. Dopo aver esaurito la sua forza devastatrice, si acquieta, ammansito, lasciando dietro di sé, avvituperato ricordo, una lunga e interminabile scia di morte e distruzione. Vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Restate svegli con noi, l'abbiamo fatto in maniera molto poetica, o meglio in prosa in questo caso, perché questo è un passo tratto dal libro, raccontando un po' Viaggio nella memoria di un paesino dell'estremo sud. Abbiamo il piacere di avere con noi qui l'autore, che poi adesso scopriremo sia un artista veramente poliedrico, che è Rocco Criseo. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Grazie di tutto e volevo dire, il tratto che adesso ho letto è il ritorno a casa del protagonista dopo la guerra. Il libro tratta delle vicissitudini di un uomo che nel corso degli anni ripercorre tutta la sua vita e giunto poi al tramonto di essa ripercorre appunto con la mente quella che è tutta la sua esistenza e quindi si ritrova a Fanciullo quando a piedi scalzi col sillabario andava a scuola i primi giochi giovanili e i primi lavori nei campi e quindi lo sfruttamento già iniziamo già da giovani con lo sfruttamento da parte dei padroni. La seconda parte poi appunto parte di questa chiamata alle armi e quindi questa guerra che ha portato morte e distruzioni e il protagonista viene fatto prigioniero e poi internato in un campo di concentramento in Germania dove rischia la camera a gas. Poi quando la guerra viene persa dall'esercito tedesco e i tedeschi vanno via questo quest'uomo si trova praticamente abbandonato come tanti altri conmelitoni in quel campo di concentramento e si trova insieme a tre compagni ad affrontare un'avventura che è qualcosa veramente di fenomenale a raccontarla perché con 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 le biciclette avevano trovato delle biciclette e con queste biciclette percorrono partono dalla Germania settentrionale e arrivano in bicicletta fino a Bologna dove a Bologna poi lui si imbarca in una tradotta militare e raggiunge il paese nativo dove poi c'è l'incontro con la madre e con la ragazza volevo dire che questo libro anche se è un romanzo quindi c'è molto dirromanzato racchiuto in sé quello che mi hanno raccontato alcune anziane di Bova Marina io sono andato con il registratore e mi sono fatto raccontare la loro vita e da qui ho tratto il succo diciamo per fare per poter scrivere questo libro quindi diciamo che i personaggi sono inventati ma i fatti raccontati come questo qua per esempio della Germania di questo uomo che in bicicletta ha percorso tutti questi chilometri sono fatti veri veramente accaduti e che effettivamente io penso che meridono essere ricordati perché sono dei fatti veramente che indicano quella che era stata veramente la tragedia della guerra la fame che c'era allora quindi la tessera per il pane l'occupazione delle terre incolte da parte dei contadini le prime lotte sindacali la lotta delle giorsominaie sono tutte delle vicende realmente accadute e che io ho romanzato in questo libro cercando di dare appunto a memoria postuma un ricordo di quello che sono stati i nostri antenati antenati i nostri progenitori insomma il bello di questi racconti il bello di questa poesia è proprio la loro genuinità o meglio il fatto che siano realmente perdonatevi il gioco di parole dei fatti accaduti c'è anche molto di autobiografico ma lo scopriremo tra poco un altro fattore molto importante è che sono apprezzati e siano apprezzati il metro per misurare questo e che lei ormai è una fucina di premi perché arrivano da tutta Italia dei riconoscimenti agli suoi racconti e alla sua poesia e questo fa veramente penso molto onore è cominciato nel 2009 poi arriviamo anche ai premi del libro raccontando un po' nel 2009 l'Utetel B partiamo qua da Bova Marina tramite il premio internazionale di poesia Delia città di Bova Marina le consegno un riconoscimento speciale della sezione Italia vernacolo di poesia poesia dialettale umigranti e anche qui troviamo un tema importante che viviamo quotidianamente che si è vissuto anche in passato particolarmente io questo tema lo tocco in parecchie poesie perché mi ha toccato personalmente in quanto poi vedremo più là i miei figli tutti e due hanno lasciato questa nostra terra sono andati sono dovuti andare a trovare lavoro in quel di Milano e quindi è un tocco è un è qualcosa che mi tocca nel personale e mi tocca pure a livello di cittadino di uomo del sud perché si pensava che questo fenomeno dell'emigrazione con gli anni 60 70 fosse finito invece purtroppo ce lo siamo ritrovati in una in una maniera ancora più forte più incisiva di quella che era una volta perché all'epoca si andava e più o meno nel lavoro si trovava adesso si va addirittura al rischio di non trovare lavoro nemmeno al nord quindi questo mi tocca e spesso nelle mie poesie come anche nel mio libro tocco questo argomento che è un argomento particolare arriviamo al 2010 l'anno successivo alla pubblicazione del libro raccontando un po' e c'è un premio nazionale questa volta il premio istonium della città di Vasto siamo in Abruzzo provincia di Chieti premio speciale del presidente per raccontando un po' che abbiamo letto poco fa quindi questa è stata anche un'altra bella soddisfazione sì sì devo dire che è stata una bella esperienza perché era una delle prime volte che partecipavo e venivo premiato e a trovarmi in questa bella cittadina dell'Abruzzo in una aula magna universitaria stracolma di gente che veniva da tutta Italia mi ha veramente commosso e gratificato perché nel momento in cui poi sono stato chiamato per la premiazione e ho ricevuto il premio la targa con la pergamena diciamo e c'è stata un'esperienza che effettivamente mi ha indotto a continuare in questa strada qua perché la cosa è andata così andando in pensione logicamente mi sono posto il problema ma adesso che mi sono pensionato come occupo il tempo libero e allora essendo io un amante della scrittura da quando ero bambino da quando ero ragazzo ho riposto di nuovo tutto quello che avevo scritto in passato l'ho rivisto l'ho rimesso di nuovo in cantiere e ho incominciato a questa che poi per me è una passione diciamo un modo di esprimermi ecco di esprimermi io personalmente e di far sì che gli altri possono provare leggendo i miei scritti delle sensazioni dei sentimenti è questo che mi realizza tra poco vedremo anche come la sua arte sia veramente poliedrica perché si passa non solo dalla scrittura ma dal mondo della musica e dal mondo anche del teatro sono altre due grandi passioni che la caratterizzano come persona come artista continuano i riconoscimenti per raccontando un po' nel 2011 c'è il premio letterario Ferula d'Oro della città di Feruleco Antico provincia di Catanzaro finalista proprio con questo romanzo e vediamo come sia tutto ci sia un filo conduttore dietro alle sue poesie e ai suoi racconti come dicevamo poco fa perché nello stesso anno l'associazione Proterra Fiumara il paese di Minoretano le consegna un riconoscimento speciale per la poesia Meniputi poesia che lei adesso ci leggerà e noi capiremo il perché è collegato anche con il libro raccontando un po' e questa è praticamente Meniputi è nata questa poesia quando è nato il mio primo nipote e quindi le sensazioni che ho provato alla nascita di questo bambino Meniputi c'è un momento di l'autocamino che ti ritrovi tutto sconfortato oramai non si c'è uno signorino ti senti tutto sciacco malandato i capilli ti diventano i anchi le forze ti cominciano a mancare due passi e le gambe sono stanchi non devono sapere camminare cominci per me pensi quasi strani se peggio di non c'è di malagurio ti trovi poi non mi piuntare le mani e passa tutto quanto l'autocamino all'intrasatto come una magia mi sento che le affande soffinuti tutti i patimi se ne vanno via cambrazza e io stringi a me ne buti mi ridi coche i docchi spalancati e vuole sempre per me ballario ci fai polo tu quattro risati e il cuore si inchi del ricrio da facce c'è da bella saporita da bucchi c'è da duci come meli trasio di prepotenza da mia vita mi sento un palumbo senza feli o inchi tutto quanto di baciati che a quanto c'è di dun manco sai davi due gambicetti zuccherati e bontatoso e non c'è mai si parli parli che ti è un'antisa e le lunghe mani pure savi sonno lo vedi con la testa di cedda tisa che vuole una carizza di suo nonno ma guarda tu che mi imbattivo ora a me giornata e chino d'allegria ringrazio a me figlio come nora che lo chiamano Rocco come mia e quindi il nipote Rocco che arriva al primo nipote come il nonno io come il nonno speriamo a redditi anche l'arte che c'è lei speriamo che abbia fortuna poi tutto il resto certamente mi farebbe piacere se anche lui avesse questa passione per la per la poesia per la per anche per il teatro insomma sono tutte delle cose che racchiudono la mia giovinezza ecco la poesia il teatro che poi la musica è venuta dopo quando ero già adulto però la mia fanciullezza è stata ricca di teatro e di poesia e quindi però c'è il rimpianto del nipote nato lontano da questa terra sì 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 il rimpianto appunto è la ecco l'amarezza di questi miei due figli che l'uno dietro l'altro hanno dovuto lasciare questa nostra terra questo nostro paese per andare a trovare fortuna in quel di Milano e appunto questo ha dato lo spunto a quella poesia che poi è diventato il titolo pure della raccolta dialettale terra ingrata che ha avuto anche un riconoscimento il libro si lo leggo io così le levo perché so che è un po' non dico imbarazzante però è un po' è un'emozione forse questo è il termine giusto parlare dei riconoscimenti che si sono ricevuti quindi lo facciamo noi da presentatori allora nel 2011 sempre il libro terra ingrata che tra l'altro ha la prefazione di Pasquino Crupi del professore Crupi quindi una prefazione una presentazione di tutto rispetto che indica un grande livello di qualità perché se il professore Crupi ha deciso di omaggiare con questa sua prefazione vuol dire che ha riscontrato un livello letterario molto alto giusto? io volevo dire che il professore Crupi ha avuto un in questo mio tragitto diciamo artistico ha avuto un'importanza enorme perché io avevo scritto raccontando un po' un po' in sordina perché avevo un po' timore di presentarmi al pubblico non sapevo e devo dire che quando l'ho pubblicato ho detto io ma chissà l'impatto che avrà sul ecco tante volte il destino diciamo incontro il professore Crupi davanti all'edicola della stazione e io timidamente gli faccio professore ho scritto un libro e l'ho pubblicato e lui subito me lo deve fare leggere io sento io professore un poco timoroso ho detto io lo porto subito glielo faccio e dopo qualche giorno sono andato sempre con quella apprezzione per il suo giudizio e mi dice mi piace allora gli ho detto io professore e me lo presentate voi ebbene il professore Crupi quanto per dire il personaggio mi ha dedicato un'intera serata di poeti in piazza per la presentazione del mio libro e devo dire che veramente da allora mi ha seguito sempre e devo a lui se io poi oltre alla prosa sono andato nella poesia perché io scrivevo in vernacolo in dialetto lui non voleva che si dicesse vernacolo dialetto e lui ha letto nella mia biografia che mi sono mi sono scritto poeta dialettale e lui mi fa quella sera stessa la Don Rocco lui mi chiamava Don Rocco qua avete scritto poesia dialettale che poeta dialettale dovete dimostrarmelo e mi ha invitato per la successiva serata di poeta in piazza per andare a leggere una mia poesia e da allora mi ha sempre incoraggiato mi ha fatto la prefazione mi ha dato dei buoni consigli e devo dire effettivamente quello che ho detto a Sederno quando ho ricevuto il primo premio ho detto io se stasera sono qua veramente lo devo al compiato professore è dato un grande contributo alla nostra cultura un contributo veramente immenso e allora quindi diciamo nel 2011 arriva il premio Nicolaus Argilopoulos premio letterario città di Montebello e terzo classificato con la poesia dialettale o foco undi in cappammo sempre nel 2011 il centro d'arte e cultura del 26esimo festival dialetto di Calabria città di ah no centro d'arte e cultura 26 pardon chiedo veni al nostro pubblico il festival del dialetto di Calabria città di Castrovillari provincia di Cosenza le dà il primo premio per il volume di poesie Terra Angrata e io direi di leggere la poesia che dà il nome proprio a questo volume Terra Angrata se tu o terra mia chi figli mei me li cacciaste via non morse panni non ci usi a piste dari neppero a giri fuori a travagliari so mamma li crescio con tanti amuri e ora cianci e pregalo signori i figli soi mi danno un avvenire ma in te so brazza mi poti morire Terra perduta si o terra mia come a chi l'ombriaco d'osteria che tracannando sempre paro paro si sculo vino puro su un acquaro ti curcasti e non devo sapere mi n'esce fuori e mi ti fa sentire mi alza testa questo grugno duro che tutti andano a vivere un lavoro terra picciosa si o terra mia mi rimanisti come anagulia voliva o me bolsuni non me chino ma i figli mei mi laio ca vicino quanto era beddu quando piccirilli li veniva saltare come griddi a casa era china di caluri vacanti esti ora e senza amuri terra si tu ni china di condolo non cesti più speranza né consolo utosa puri dassa bucca amara che ancora detta legge la lupara mi fanno raggia sti politicanti che promessi li sanno fare tanti ti dino che di ti andano rispetto ma con la mafia poi vanno a braccio se tutta chista tu chissà per fare su stanco mi ti vi sempre penari mi cangi proprio tu non vuoi sapere ma se non è così dove vuoi non sa chi chi altro mi ti dico e ora mi ti menta voglio fico mi nesci presto fuori st'apatia si ingrata tu ma si la terra mia penso che dica tutto l'attaccamento a questa terra con tanti difetti ma quando si parla della propria terra la propria casa e l'orgoglio delle proprie origini sono una caratteristica delle mie poesie insieme alla satela a me mi piace anche usare la satela tante volte abbastanza puggente su quelle che sono gli usi costumi certe consuetudine delle nostre parti che rimangono come che non si riescono a slaricare dal modo d'agire delle persone il caso di Mugliereboi per esempio leggiamola vedo la poesia e ce l'abbiamo pronta questa qua è una poesia che è nata così per caso ci trovavamo cinque amici d'infanzia bovesi in un ristorante di Cinisello Balsamo Cinisello in provincia di Reggio Calabria anche se al nord lì ci sono tanti calabresi avevamo organizzato questo pranzo e ci siamo trovati con le mogli e a un tratto ci siamo guardati in faccia e abbiamo visto che tutte e cinque le mogli non c'era una che era che non addirittura che fosse boviciana nemmeno calabresi e allora si siamo messi a scherzare un poco su questa cosa qua e dopodiché una di queste che conosce i miei scritti dice Rocco ma tu che scrivi perché non lo scrivi una poesia sulle donne forestiere le mogli forestiere ed è nata questa mogli e voi signori me mi scappano le risi cui è che si inventava sto modo di dire mogliere e voi di lo tutti i paesi ma come lo dissi facetemi piacere i fimmini di fora cari amici hanno motivi tanta lamentela che con pacienza e mille sacrifici sopportano mariti e parentela la fimmina che casa un boviciano non sape quale guaglio che si piglia si crede che ma è un cristiano si trova invece tutta una famiglia a soggera e sempre bucazzare me figlio saccio io come è cresciuto da casa tu ci si per pulizzare car uomo ne veste riservuto e la cugnata poi lasciamo stare gli attriuli senza mai smettire non faccio altro che peculiari e ogni cosa s'av entromettire pittegola trigante e comandera appena senti ti piglia lo spagno oh chi facisti chi da da guerra vuole sapere pure se va al bagno poveri femminelli foresteri mugiere di marito boviciano nome dagli occhio e sa vimeri se ancora stati con questo cristiano ma è uno spaccato perfetto della società dell'area grecanica ed in effetti è vero perché oggi ti sposi chi sposa un bovese però si sposa un'intera famiglia perché poi diciamo così più che la pettegoleria è questa voglia di vivere a 360 gradi la famiglia ho un largo consenso questa poesia che ripeto io ho scritto così per e che poi ho mandato questo così non sapendo cosa mandare a questo premio letterario ho detto io mi rimando questa qua e addirittura rischiavo mi diceva la presidenza delle commissioni dice guardi per un punto solo ha preso il secondo perché la giuria è stata incerta fino all'ultimo è stato un piacere anche questo i premi si collezionano penso che ormai tra la libreria e la parete spazio non ce n'è più sì ormai il mio studietto devo vedere come sistemarlo perché non mi entra più c'è un problema di logistica al massimo si apre una parete e ci si allarga in un altro appartamento diciamo che le pergamene non le ho perché se dovevo incorniciare tutte le pergamene veramente non c'era più posto e questo mi fa piacere mi gratifica e mi incita ad andare avanti anche perché ormai mi sono appassionato e penso che questo mi dia molta forza per il mio futuro anche perché avere qualcosa per cui continuare perché uno quando lascia il lavoro tante volte dice ora che faccio sono finito ormai a livello produttivo invece così ho trovato la forza veramente di andare avanti nella mia vita fin quando il signore ce lo permette se posso permettermi di fare un piccolo una piccola annotazione per i nostri telespettatori perché lei parla di lavoro cessato ma non abbiamo parlato di quale lavoro alla fine questo è il simbolo di come di come veramente la cultura non abbia generale non sia ghettizzata diciamo così in ambiti alti ma la cultura sia di tutti anche perché lei faceva un lavoro umile un lavoro normale in ferrovia nelle ferrovie dello Stato sì io sono stato 35 anni in ferrovia ho fatto il capo stazioni e quindi col mio lavoro diciamo che ho girato tutta la Calabria metà Sicilia metà Campania e un pezzo di Lombardia in tutti questi viaggi cosa cosa le veniva in mente quando pensava a questa terra le differenze tra la nostra terra e le terre che andava a visitare beh diciamo che è stata un'esperienza anche per me perché io sono entrato in ferrovia giovanissimo appena finito il militare quindi non avevo conoscenza dell'Italia delle altre degli altri territori diciamo e quindi la prima esperienza che ho fatto in terra di Campania è stata un'esperienza bellissima che ha lasciato traccia dentro di me perché poi mi sono portato il souvenir a casa mia moglie che è una campana della provincia di Salerno che io ho sposato e mi ha seguito in terra di Calabria adesso è qui con me ancora dopo dopo 36 anni ieri abbiamo fatto 36 anni di matrimonio e ancora diciamo siamo qua e allora auguri mogliere e boi dovunque tranne che dei paesi tuoi perché non vuole che gliela dedico questa qua perché dice no non me la deve dedicare a me dice che mogliere e boi dice è qualcosa che oltrepassa io ormai sono diventata calabrese pure io mi sono radicato qua e quindi non si riconosce in questa poesia se l'avessi scritta 35 anzi 36 anni fa forse ma adesso avrebbe avuto forse più adesso no adesso lei si è perfettamente integrata nel tessuto sociale nostro sebbene sempre legatissima alla sua terra infatti io vado anche anche io sono molto legato a quella terra del Cilento bellissima terra spesso vado pure io mi passo qualche giorno e sono stato anche premiato poi lo vedremo lo vedremo tra poco ma noi andiamo avanti perché veramente i premi sono tanti ed è giusto elencarli tutti perché ci fa capire di come e di quanto abbia viaggiato la sua poesia e la sua letteratura in senso molto ampio parliamo anche di oltre che di romanzi di racconti brevi ma ne parliamo tra poco Lutetelbi Università per la terza età per il tempo libero Bova Marina quindi è la sua città natale le dà un riconoscimento speciale alla carriera nel 2011 con il premio Delia per appunto tutto il lavoro letterario che ha fatto nel corso degli anni e c'è una poesia a cui lei visto che parliamo di carriera è molto legato perché è la poesia che ha dedicato proprio a sua madre e se non mi sbaglio c'è anche una storia del perché è arrivata questa poesia sì questa poesia l'ho scritta praticamente quando mia madre ha compiuto 80 anni adesso ce n'è 89 e ringrazio Dio perché in buona salute speriamo di festeggiare il centenario come dice nella poesia e siamo andati naturalmente a festeggiare il ristorante e in quell'occasione ho scritto per te mamma non ho che hai a mente tutti i loro una faccia che ti luccica da muri nocchio che ti segue a tutti i parti non sango che ti unisci e mai ti sparti oh mamma ti ricordi pare ieri tu sempre facendate i tuoi misteri ed io che fermo non poteva stare faceva sempre a te l'attariari su uomo ormai e finì per me paccio una famiglia dai ora per me vivo mogliere e figli a cui sogno legato ma l'amore per te non è cangiato siamo c'è tutti quanti a ricordare sti 80 anni di ancorniciari come un dipinto grande da un pittore che gli incatila di tanti colori è salvato il tuo libro di memori tutto bene che gesti il tuo cuore non c'è ricchizia che vale il tesoro che sei tu per me e per me solo ridi puro che sto andoloruti si circondata di tutti i tuoi nipoti che ti imbrazzano baciando ti paro del rive di mucca po' centenario sai mamma ti andai a dire una cosa e goditi anche tutto il resto speriamo veramente di arrivare al centenario si è emozionata con questa poesia si mamma mia ogni volta che la leggo che capito in piazza che me la richiedono e lei è presente è una commozione non solo per lei ma per le mie sorelle e anche per me leggerla è un motivo abbastanza di battere l'animo perché la mamma è un bene prezioso io direi che chiunque ha la possibilità di ascoltare questa poesia o di leggerla nel libro Terrangrata penso si emozioni forse allo stesso punto sia chi la mamma ce l'ha ancora che chi non ce l'ha più nel cielo sì 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 e diciamo ecco ma io nelle mie poesie come anche nel libro nella prosa io cerco di trasmettere questi valori questi sentimenti quando vedo che la gente li recepisce quando vedo che la gente prova delle emozioni per me quello è il premio al di là poi dei premi letterari diciamo al di là di quello che può essere la notorietà il premio più grande è quello di sentire che la gente prova delle emozioni e questo è lo scopo è il premio veramente più bello però ci sono anche i premi quelli fisici abbiamo visto che sono tanti e continuano ora ci catapultiamo all'anno scorso nel 2013 il premio letterario ecco qua siamo nel Cilento in provincia di Salerno a Rocca Gloriosa il premio letterario della città rilasciato dall'associazione culturale Effetto Donna da un premio speciale che si chiama Ugualmente Diversi per il racconto breve Iassed Il Nero questo è un racconto breve che tra l'altro possiamo dire è tratto da un'opera che arriverà molto presto è un estratto del mio prossimo libro che spero di poter pubblicare nel prossimo nel prossimo inverno è un capitolo in cui tratta di questo fenomeno che mi tocca particolarmente che poi ho ripreso nella poesia dialettale che è quello di questa emigrazione di massa di questi sventurati che lasciano questi paesi dell'Africa e attraversano il Mediterraneo rischiando la vita e poi quando si trovano nelle nostre terre sono spruzzate e tante volte sono sono schiavizzati ecco questo Iassed è appunto uno di questi che lascia la famiglia la moglie il figlioletto piccolo e viene qua in Italia e fa tutti quei lavori che fanno quando arrivano quindi lavora nei campi la raccolta dei pomodori il vucumprae poi piano piano insomma si specializza diventa impara l'arte trova dei padroni della gente che comincia a stimarlo a lavorarlo bene e si fa un bel gruzzoletto di denaro e appena c'ha quel gruzzolo di denaro sufficiente ritorna nella propria padria questa volta prendendo una nave tranquillamente e c'è questo incontro tra l'autore il personaggio diciamo del libro con questo Iassed del Nero questo incontro che avviene di sera nella spiaggia perché trova questo Iassed che come una statua di ebbano che seduto sulla spiaggia che guarda il mare guarda l'altra sponda e nasce un'amicizia sincera con questo Iassed che poi praticamente diventa amicizia veramente fraterna è nato poi questo racconto breve che è stato premiato a Rocca Gloriosa provincia di Salerno quindi dicevamo prima il Cilento l'integrazione che fa parte di questo libro possiamo dirlo il titolo Nessuno è perfetto che tra l'altro è un racconto al contrario rispetto che è quello di raccontando un po' raccontando un po' è un anziano che torna indietro verso la gioventù mentre Nessuno è perfetto al contrario è un giovane che è nato subito dopo la guerra e cresce in questo nostro territorio con tutte le problematiche inerenti e con il dilemma ecco qua c'è molto di me stesso proprio del mio modo di pensare con quel dilemma che l'affligge e dice ma resto rimango qua nella mia terra o vado via per cercare fortuna perché qua purtroppo non ce n'è e ripercorre diverse vicissitudine di vita e poi alla fine poi non vi svelo perché se svelo al finale poi quando sarà pubblicato il libro ci incontreremo di nuovo qui in trasmissione e lo presenteremo anche perché penso che il nostro pubblico apprezzerà e lo farà in maniera molto in maniera molto ecco non diciamo altri termini anche perché non me ne vengono io sono veramente attratto da tutte queste poesie da questi racconti perché mi ci ritrovo anche io paradossalmente da ragazzo che cresce in Calabria e che cerca di fare qui la propria fortuna e di non andare via continuiamo con i premi siamo sempre nel 2003 l'associazione culturale Nicolaus Archilopoulos ancora al premio letterario città di Montebello riconoscimento della giuria per la poesia dialettale a finescia questa poesia invece di che cosa parla riassumiamola in breve anche questa qua tocca il tema dell'immigrazione praticamente è una persona che si affaccia alla finestra e si trova a vedere quella che è la nostra il sole il mare il verde delle colline tutto questo praticamente però guardando tutto questo poi si ritorna con la mente dice si è tutto bello quello che c'è però i miei figli sono lontani dice che me ne faccio di questo sole di questo mare se poi io sono qui solo e non posso godere della presenza dei miei figli e allora praticamente poi ha un finale un poco triste perché poi alla fine la poesia finisce dicendo che dalla finestra praticamente non si affaccia più perché ormai ha perso la speranza per poter credere ancora io non diciamo che è un pochettino triste come poesia però in quel momento era un momento particolarmente emotivo è uscita fuori così ci stanno anche la tristezza è una tristezza esattamente esattamente dovuta alla nostalgia premio città di Montevallo che arriva anche quest'anno il secondo posto per la poesia in vernacolo l'abbiamo letta prima era Muglieri e voi e poi sempre quest'anno dal Centro Internozionale Scrittori della Calabria di Reggio durante nel corso del festival di poesia dialettale calabrese Giuseppe Morabito le conferisce il terzo premio con la poesia O Foco Onde Incappammo e questo dal titolo mi sta tanto di una di quella satira di cui parlava prima sì praticamente anche qua c'è quel paragone tra gli anni 60 quando tutti ci siamo illusi che le cose stavano cambiando tutti eravamo convinti che ormai ci eravamo lasciati alle spalle quei momenti tristi di emigrazione di mancanza di lavoro e invece poi ci siamo trovati con questa nuova realtà che ci ha costretti di nuovo a migrare non più diciamo a valigia di cartoni ma praticamente siamo migrati adesso con si parte con l'aereo non più col treno però diciamo che il problema è sempre quello siamo ritornati di nuovo a essere carne di macello ecco e questo diciamo che forse cambia la forma con cui emigriamo ma non cambia la sostanza c'è un popolo che è sempre dietro agli altri anche se è un po' meno indietro perché comunque le tecnologie aiutano tanto ma la tecnologia fine a se stessa non serve perché se non c'è lavoro e se non ci sono diritti e così non c'è non ci può essere mai crescita e quindi arriviamo parliamo ancora di emigrazione e questa è l'ultima poesia anche perché ha ricevuto due premi e li ha ricevuti da poco in questi mesi la poesia è Facciniri e Facciniri che adesso leggeremo e con la quale saluteremo i nostri telespettatori ha ricevuto due premi molto importanti il primo in ordine di tempo è il premio Giumo Trichilo della città di Siderno il premio letterario arriva al primo premio con la poesia per l'appunto Facciniri stesso premio però è sempre un primo premio ma altrove arriva da un altro posto arriva dalla provincia di Cortone il premio letterario La Fortuna dalla città di Caccurri se non mi sbaglio provincia di Cortone l'Accademia dei Caccurriani è quella che ha rilasciato il premio sempre il primo con Facciniri e quindi io lascio i nostri telespettatori all'ascolto di questa poesia con la quale li salutiamo e noi ringraziamo ancora una volta il poeta scrittore attore musicista fermiamoci fermiamoci a scrittore poeta però veramente un artista poliedrico ed è bello vedere persone che si impegnano nel mondo della cultura Rocco Criseo Facciniri venivano di terra assai lontani poveri Cristi con i facciniri fuivano con i cuori in talimani cercavano una patria e non avveniri fuivano per non non mi sommazzati per non daviri più campare stenti per non venire sangue strati e strati per non sentire i cangeli nocenti fuivano di un destino infami che li voleva morti e sotterrati di prescia patendo sito e fami da stavano di terri sventurati stivati in tala barca come cani che i pevi scazzi e solo ce le mari parivano più besti ca Cristiani giornati interi senza ricatari famati pagavano un'opinio nasciru da un paese indegno onde la libertà non c'era signo solo la povertà d'aveva il regno frontavano un viaggio senza fini e figli mi cedulano un'opani pezzenti non certo malandrini volevano speranze po' domani non è però di certo buona sorti canci gustavo caro nave cari ammurra silingio tio la morti negati talo fundo di lumari di fronti a chiste morti senza cruci di fronte a chiste gente senza pace a mente mia ciù non si conduci un mondo parra parra e niente faci vedendo tutta quanta stamoria facciamo finta che non dispiacimo non padri nos con ave maria e dopo un poco tutto disperdimo ma non sentimo scorno tra sto cori ma non davimo sangue in tale vini per un po che libertà sta gente mori e li bullamo come clandestini finimola con tutto stuparrari che pure a cristo non mantimmo in croci vediamo invece che potremo fare dandilla tu signore un po che luci dandilla tu signore una speranza una stilla mentre illumina il cammino calomo è sempre pronto per mattanza comori e sempre abeli e mai caino ma onde corri mondo scellerato ti pare che non paghi d'azio mai riva che pure tu gli hai talusi e se non daste niente niente andai la profondità di facciniri noi ringraziamo ancora una volta Rocco Crisio per essere stato qui in trasmissione grazie a voi e un arrivederci a tutti i telespettatori e la arrivederci lo do anch'io alla prossima settimana